Tanta acqua, ma tanto pubblico, tanti appassionati, tanto divertimento. Ho una bellissima macchina, una bravissima navegatrice, quindi di sicuro ci godremo questa manifestazione che è la gara più bella del mondo. Ma deve allenarsi sui presostati e quindi non siamo molto allenati, però io credo che si debba lavorare per l'affidabilità della macchina, anche perché sono macchine che hanno bisogno di essere sempre tenute molto in forma, tra virgolette, quindi il team deve lavorare molto, ma io credo che la nostra macchina sia perfetta, perciò non avremo problemi. Ma io credo che le colline toscane siano le più belle.